500 i tamponi effettuati in tutta la provincia di Cosenza, le persone residenti in Calabria che ieri vi hanno fatto ritorno. 300 quelli effettuati nei punti presidiati dalle unità mobili presso l'area di servizio di Frascineto sulla 2 del Mediterraneo e i rimanenti nei punti presidiati di Paola, Tortora e Rocchi Imperiale. Ancora non si conoscono i risultati anche se tutti quelli arrivati dal nord sono sottoposti a quarantena. L'isolamento potrà essere interrotto solo all'esito negativo dei test a cui si sono sottoposti a seguito comunque di comunicazione e valutazione da parte dei dipartimenti di prevenzione delle ASP di appartenenza previsto dalla punto 3 dell'ordinanza del presidente della regione Calabria del 30 aprile 2020. C'è da dire che ieri diversi hanno rifiutato di fare il tampone che lo ricordiamo non era obbligatorio preferendo di andare in isolamento senza conoscere il proprio stato di salute. Una concessione che mal si concilia con la prudenza a posto che chi risultasse negativo potrebbe comunque sviluppare successivamente la malattia e magari rischiare di contagiare altre persone. Ma ci chiediamo perché non si è pensato di mettere in isolamento obbligatorio per 14 giorni tutti coloro che ieri hanno deciso di far rientro in Calabria? Domanda che giriamo a chi di competenza.